Un lockdown localizzato per contenere l'incremento dei contagi nel comune di Novivelia. Adriano De Vita, sindaco del centro cilentano, ha firmato da qualche giorno un'ordinanza che prevede una serie di provvedimenti restrittivi per arginare l'incremento cruento ed esponenziale della diffusione del virus che si è registrato dal mese di ottobre. È scattato infatti, e fino al 20 novembre, il divieto di allontanamento dal territorio comunale per i residenti e quello di accesso per i non residenti o domiciliati. Sono state sospese le attività degli uffici pubblici, eccezion fatta per i servizi essenziali e di pubblica utilità, le attività scolastiche in presenza, le attività artigianali, produttive e commerciali, comprese quelle di ristorazione, che potranno effettuare solo consegne a domicilio. Resteranno aperte le attività di vendita di generi alimentari, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Sospeso il mercato settimanale del mercoledì, nessuno potrà uscire dalle proprie abitazioni se non per esigenze e servizi di prima necessità. Il sindaco inoltre ha disposto la chiusura di parrucchieri, barbieri, acconciatori ed estetisti. Sospesi anche i cantieri edili privati, le attività di palestre e di circoli privati ricreativi e culturali. Non si potranno celebrare le cerimonie civili e religiose ed è sospesa la celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli. L'attività di cura e di ricovero degli animali sarà consentita dalle 7 alle 8 e dalle 16 alle 17. Disposta inoltre la chiusura delle strade secondarie di accesso al territorio. Inoltre è iniziata anche l'attività di screening per i residenti e i domiciliati che potranno effettuare gratuitamente il tampone in piazzetta risorgimento.